Il lavoro svolto finora, ma particolarmente sensibile l'amministrazione comunale e il sindaco Marco Galdi su questi temi, protagonisti di un consiglio comunale. L'osservatorio su diversa abilità è un'istituzione importante che ormai ha una vita di molti anni e riunisce tutte le associazioni di genitori, familiari o persone che vivono una diversa abilità. E si tratta di un'istituzione del comune che sta contribuendo molto a porre al centro dell'attenzione delle istituzioni, in particolare dell'ente stesso, i problemi di chi vive la diversa abilità. In questi anni diverse cose sono state fatte, molti degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che il comune ha realizzato, l'ha fatto in collaborazione con l'osservatorio e con i suoi esponenti. Si fa ormai già da due anni una festa di diversa abilità che pone il tema proprio nella piazza principale e che consente una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini e anche un'occasione di dibattito e di confronto sui progressi che si svolgono. L'osservatorio finalmente ha avuto dal comune una propria sede dove può riunirsi, può progettare e può anche consentire alle associazioni privi di sede di avere un punto di riferimento. Certamente tanti sono anche i temi da affrontare e credo che questa sarà l'occasione per fare il punto sull'abbattimento delle barriere, per fare il punto sul lavoro per i diversamente abili, sul progetto molto desiderato, soprattutto dai genitori, dai ragazzi con diversa abilità, di avere un dopo di noi, c'è un luogo dove i ragazzi possano vivere magari in famiglie protette anche quando i genitori non ci saranno più. Su questi temi si discuterà, credo che sarà importante in qualche modo individuare gli obiettivi di breve, di media e di lunga durata, per cui il comune di Cava dei Tirreni ha il dovere di guardare perché diventino l'uno dopo l'altro delle realizzazioni, trasformando Cava sempre di più in una città per tutti, una città non soltanto per coloro che sono pienamente abili, ma davvero per tutti. Dottor Enzo Prisco è il presidente dell'osservatorio sulle diverse abilità di Cava dei Tirreni, protagonista insieme alle sue associazioni di questo Consiglio Comunale monotematico, sugli scranni dunque della siste cittadina, ritorna a focalizzarsi all'attenzione sul mondo delle diverse abilità, un'occasione di confronto, ma anche e soprattutto un'occasione di rivoluzione culturale che c'è necessità di raggiungere in città. Sì esatto, al di là di quelle che sono le problematiche vive di cui ha parlato anche il sindaco in conferenza stampa, le barriere architettoniche, il problema della scuola, del lavoro, del dopo di noi. Riteniamo che sia fondamentale che la città di Cava faccia un salto di qualità nel suo approccio culturale nei confronti della diversabilità, capire che cosa è la diversabilità, chi colpisce la diversabilità, chi sono le persone affette da questa situazione e quindi maturare tutti quanti, tutti i cittadini, dal primo all'ultimo, una di attenzione e quindi di riguardo e quindi di attenzione alle problematiche dell'handicap. L'esempio più stupido, se io parcheggio la macchina devo stare attento che non ci sia il segnale oppure ci sia la presenza di uno scivolo perché le carrozzette possano scendere dal marciapiede di andare sulla sede stradale. Ecco, un poco di attenzione per evitare che un mio parcheggio egoistico possa significare per il disabile tre quarti d'ora di attesa per soffrire dello scivolo stesso. Maturare una coscienza di diverso approccio, la diversabilità potrà interessare purtroppo tutti quanti noi nel corso della nostra vita, non riguarda solo quella fascia di persone che ne sono affette dalla nascita per motivazioni genetiche e quindi è bene che insieme ci sforziamo di fare della nostra città una città vivibile per tutti. Allora, istruzione per l'uso, giovedì prossimo alle ore 17 in Consiglio Comunale si discutirà di questo ma in poi i suoi protegerà un'unione? Sì, noi punteremo su quattro argomenti soprattutto che sono poi...